il nostro Il nostro quartier, il nostro quartier, è visto, ma è già gratissimo, è visto, vieni a piedi, se portiamolo in macchina è tornato a piedi, sei contento, tu corri a piedi, no, la strada lo sai, tira con lì, 120 km, e ci va, corri, e via via. Eccolo qua! Ciao, coicino! Visto?